Una sparata la facciamo dentro all'osteria di Netto, quando si cattava questa, i Marei da una parte e i Marelasch da quell'altra, i Marei erano quelli ancora indecisi, adesso no se si sposano o sì o no, il Marelasch, no, diceva, diceva Marelasch, me piuttosto che sposassi vuoi falfrari in alta montagna, divento eremita, e allora è nata la canzone del piuttosto, è con questa che noi salutiamo, amici del feria, se qualcuno vuole il nostro cd, come ricordo, è arrivato così dal vivo, senza parte delle lette purtroppo, le facciamo solo dal vivo, sono storie, storie del continuo, io ho cominciato a fare questo mestiere all'oratorio, grazie a mio zio, prete, a 83 anni scrisse una lettera sia al Vaticano che alla Curia, lamentandosi di essere un prete di montagna in quel della Valsassina e di non aver mai fatto carriera nel clero, gli arrivò la risposta da un medico, da un dottore, pensate che idea, l'ho preso un giorno con la macchina e l'ha ricoverato dalla sua clinica a Sondrio, tre mesi ricoverato in clinica, mio zio prete, ha avuto 83 anni, è uscito dopo tre mesi curato. E va di Dubai, tanzai, fai divertire la gente, che ne vedi? Fai sacrifici, un'altra, grazie a noi! E viva l'amore, l'amore, l'amore che pecche va! E viva l'amore, l'amore, l'amore che pecche va! E la bordo, e la bordo. Viva l'amore, viva l'amore, viva l'amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.